Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita! Spegni l'auto e tira il freno a mano. Solleva il braccio del tergicristallo. Per togliere la spazzola, premi il bottone e falla scivolare verso fuori. Per inserire la nuova spazzola, fai come quando hai tolto la vecchia e falla scivolare lungo il suo invito. Sentirai il clic del bottone quando si incastra. Riappoggia delicatamente il braccio sul parabrezza. Operazione conclusa. Ciao! Se questo video ti è stato utile, like e suscriviti al canale.